La teoria del gender non ha alcuna valenza scientifica e chi ne sostiene la sua pericolosità non fa altro che diffondere cattiva informazione. L'associazione Arcigay della BAT prende le distanze da chi cerca di creare strumentalmente delle connessioni tra le battaglie della comunità omosessuale per il raggiungimento della parità giuridica e sociale e lo spauracchio di una nuova teoria dai dubbi principi agitato soprattutto negli ambienti cattolici e conservatori. Una ideologia gender non esiste, che tra l'altro parlare di una ideologia gender è pretestuoso e scientificamente non fondato e tra l'altro servirebbe a destare paura e sospetto tra educatori e famiglie sostanzialmente attaccando quei principi legati alla educazione, alle differenze, alla affettività che potrebbero essere attuati nelle scuole. Ben altra cosa è quindi l'introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole, a cui l'Arcigay guarda da sempre con favore, ritenendola un'opportunità di crescita culturale per le nuove generazioni, sostenuta in questa battaglia anche dall'Ordine degli Psicologi e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, parlare di educazione sessuale nelle scuole è uno dei parametri per determinare una crescita sana ed equilibrata della futura umanità. Quindi esistono dei parametri sull'educazione sessuale che sono sanciti dall'OMS e sono stati condivisi e promossi anche dall'Ordine degli Psicologi a livello nazionale e anche a livello regionale. Le polemiche sul patrocinio che l'amministrazione comunale di Andrea ha concesso all'evento organizzato presso l'Oratorio Salesiano sui pericoli della teoria del gender ha quindi un preciso fondamento morale, dicono dall'Arcigay. Non a caso l'avvocato Gianfranco Amato, protagonista di quel convegno, è stato duramente contestato anche in un incontro sullo stesso tema tenutosi successivamente a Bari. Si rischia, sostiene l'Arcigay, di creare ancora più confusione nelle famiglie che hanno già difficoltà a rapportarsi con le diversità sociali e culturali. Sono preoccupato per questo tipo di posizione dal momento che le nostre città, la nostra provincia presentano una situazione di eventi di violenza in crescita. E invece episodi di questo genere, convennistiche di questo genere, delegittimano il lavoro che le associazioni che sono impegnate sulla base proprio dell'attività volontaria sul territorio stanno facendo per prevenire i fenomeni di violenza, prevenire i fenomeni di bullismo. Il mio problema, il nostro problema è cosa succede in quelle famiglie dove esiste la paura di una ideologia gender e ci dovesse essere un figlio o una figlia omosessuale, lesbica, transessuale, bisessuale. Quale portato di sofferenza, quale portato di discriminazione possono verificarsi in quei contesti dove appunto c'è chi avvalla, da un punto di vista culturale, da un punto di vista istituzionale, la paura della differenza.